In questi capitoli, dicevamo già, va verso la fine il ministero di Gesù in Galilea e nello stesso tempo si radicalizza anche lo scontro con i farisei in particolare e non solo con loro, nello stesso tempo però diciamo che cominciano a spuntare anche problematiche che riguardano la comunità dei suoi discepoli. Cominciano appena appena. Leggiamo, il primo problema che troviamo è la tradizione degli uomini ai comandamenti di Dio, uno scontro con i farisei su un problema che per loro, per i farisei, aveva molta importanza. Notate, comincia così, c'è una commissione di inchiesta, dicevamo il Vangelo, leggiamo subito adesso, c'è una commissione di inchiesta mandata da Gerusalemme che vuol verificare un po' chi è e che sostanza ha questo profeta nuovo che nessuno conosceva prima, che nessuno immaginava ci fosse e quindi sono lì per fare domande, per fare un'inchiesta praticamente su di lui. E qual è la prima cosa che toccano? Qualcosa che per loro appunto era molto importante, che vedono che i suoi trascurano le mani prima di mangiare. Alcuni farisei, alcuni maestri della legge, quindi rabbini, giunti da Gerusalemme si avvicinarono a Gesù e gli dissero, notate siamo verso i margini della Galilea, eh? Prima di mangiare i tuoi discepoli non fanno il rito di lavarsi le mani. Perché non rispettano la tradizione dei nostri padri? Che sia una tradizione religiosa è pacifico, anche se riguarda il lavarsi le mani, è vero o no? Hanno aggiunto religiosa ma non per far capire, ma forse è un di più proprio. Comunque non rispettano la tradizione degli antichi, dei nostri padri. Notate in cosa consiste questa tradizione dei nostri padri. Voi sapete che i libri della Bibbia, specialmente quelli che noi diciamo storici, la Torah e la storia del popolo dall'ingresso in Palestina fino alla deportazione a Babilonia, fondamentalmente sono i primi sette libri della Bibbia attuale, sono stati consegnati a Israele, così come sono oggi, circa 500 anni prima di Cristo, spana più e spana meno. Subito come sono arrivati i rabbini, i maestri della legge appunto, si sono preoccupati di studiarla, questa è la parola di Dio, per cercare di capirci sia qual era il messaggio che si trovava dentro, sia qual era la risposta. Il messaggio è l'annuncio di quello che Dio fa per noi, le mirabiglie a dei, le grandi opere di Dio, che sono descritte in quei libri, sia che risposta devo dare io, ebreo, a Dio per non buttare via questo regalo che mi mette in mano. La prima parte si chiama ancora oggi Aggadà, studio degli interventi di Dio, Aggadà. Invece la risposta morale, cosa devo fare io per, è detta in ebraico sempre, Alacant, Aggadà, Alacant. Notate, l'attenzione dei maestri era soprattutto fissata sulla Alacant, perché capire gli interventi di Dio e le grandi opere di Dio era facile, non c'era da aspettarci più di tanto, bastava l'eser con un po' di attenzione e invece cosa dobbiamo fare noi? Eh, quello mica sempre. E queste norme, pian piano, sono state fissate in alcuni libri, alcuni documenti. Uno di questi documenti si chiama Mishnah in ebraico. Mishnah. È tutta una serie di riflessioni, di precetti, eccetera. Da qui vengono la maggior parte dei 613 precetti che gli ebrei hanno tirato fuori dalla Bibbia. La Mishnah sarà poi completata verso il IV-V secolo d.C. Però non finirà questa ricerca, va avanti. Noi adesso la vediamo com'è all'epoca di Cristo, però andrà avanti e verrà fuori un altro libro che unendosi al primo, alla Mishnah, dall'original Talmud che funziona per gli ebrei ancora oggi. Bene, la Mishnah è divisa in sei parti. L'undicesimo capitolo della sesta parte, quindi verso la fine, su dodici capitoli che formano la sesta parte, l'undicesimo, quindi verso la fine proprio della Mishnah, l'undicesimo capitolo è tutto dedicato al lavaggio delle mani prima dei pasti. Un intero capitolo, a noi verrebbe fuori di Bacchicchia, non l'ho mai visto, ma ho letto più di una volta in libri che parlavano appunto di ebrei, eccetera, che questo aspetto della loro vita, il lavarsi le mani secondo le norme della Mishnah, le norme della tradizione, dell'insegnamento tradizionale dei padri, era davvero un affare. Non a caso, spesso e volentieri, quando i rabbini mangiavano, lasciavano la porta aperta perché chiunque voleva poteva entrare in casa per controllare come il rabbino si preparava al pranzo attraverso il lavaggio delle mani. Era un rito mamma, complicatissimo, perché dalla osservanza più o meno perfetta di tutte queste norme, diciamo, derivava un giudizio sulla capacità della persona di vivere in modo fedele alla sua fede ebraica. Praticamente per vari motivi storici, questo aspetto secondario e esteriore, perché per farmi ciò occorre credere in Padre Eterno, Espirito Santo e compagnia bella, neanche dare importanza alla legge di Mosè. Basta dire questa cosa, devo farla per farmi la figura, devo farlo per far carriera, eccetera, eccetera. Basta motivi più piccoli, più banali. Senz'altro, ma talmente biluzioso che l'igiene è la scusa iniziale. Di fatto era diventato così, così ossessivo nell'esecuzione da complicare la vita delle persone proprio, per sé. Ancora oggi, per esempio, per le regole che riguardano il mangiare, il cibo, non solo il lavarsi le mani, ma anche la qualità del cibo, eccetera, per gli ebrei è quasi come per i musulmani, né? I musulmani hanno le loro macellerie al-al, quindi garantite che gli animali vengono uccisi secondo quello che dice il Corano. E gli ebrei hanno le loro macellerie kasher, che garantiscono la carne uccisa, martellata, secondo le leggi ebraiche, le leggi della Torah. E basta un niente per rendere la carne impura, e quindi non mangiabile, la buttare via, anche se l'è perfetta. Normalmente in questi casi va bene ai cristiani che vivono intorno, perché la regala di fatto, la regala per poco niente, perché per loro è non mangiabile, deve essere eliminata proprio. Ecco perché questa commissione incaricata di verificare che tipo è quel rabbino lì, che poi non è neanche un rabbino, perché non fa parte di nessuna scuola però, questo profeta che fa miracoli oltretutto, la prima cosa sulla quale cerco di verificarlo è questa realtà così banale, se vogliamo, ma che per loro a quel punto aveva assurdo un'importanza straordinaria, nel Natura, però era stata esasperata come importanza.